Ecco si festeggia il compleanno di Alessandro Abbonizio che l'altro giorno ha compiuto 16 anni, c'è dolci e bibide, fate un applauso per Alessandro, c'è Teti che porta il bassoio c'è Teti che porta, bravo Teti, l'hanno puntata, mangiate e bevete ho una pizza che è rutto ecco il nostro realizzatore del secondo volo direttamente sul calcio di punizione qua abbiamo Manuele, Guido, Federico, Ceroli e Alessio che l'hanno puntata Lele, Gabriele, Alex, tutti presenti, Pitbull bravo, una bella vittoria almeno per sperare di andare ancora avanti e sperare alla prossima gara, signore e signori qua dallo sfogliatoio della Virtus Castelfrentano Zio Carlo vi saluta